questo programma è offerto da ma che cos'è la donna è tutto ciò che c'è intorno alla figa ma no amici dello zoo credite di una bella e sanissima presigla musicale va bene wender sei pronto pronto pippo bene allora andiamo marco donna nella parte di un pesce sega innamorato non poteva segar più perché già troppo avea segato eh sì da fregene a cefa dj spine nelle vesti di Fabio Alisei nella parte di Paolo Noiz nella parte di è tutto nero come l'ombra della notte tutto nero il suo cappello ma dove li trovo tutto nero il suo mantello tutta nera la barbetta tutta nera la maglietta Wender nella parte di è il tuo corpo che cambia la forma è nel colore è in trasformazione Luca Alba nella parte di tu reciti una parte fastidiosa alla gente facendo della vita una commedia divertente ho anche provato a lavorare senza risparmio mi diedi da fare ma il son risultato dell'esperimento basta Pippo nella parte stappante di Pico spazio pubblicità Pico spazio pubblicità e poi Marco Mazzoli nell'entusiasmante parte di Poi Marco Mazzoli nell'entusiasmante parte di Adesso dopo avervi sputtanati bene bene Sigla Sì ragazzi Sì ragazzi Sì 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 Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.